Benvenuti, benvenute o ben rientrati e ben rientrate. Abbiamo visto in questi incontri è uscita spesso l'idea che appunto un'arte si protende verso un'altra spesso perché sente la mancanza di qualcosa, la parola sente la mancanza dell'immagine, la parola è il suono, l'immagine abbiamo visto prima sente la mancanza della parola o del suono e molto spesso quando pensiamo al cinema, all'arte cinematografica ci dimentichiamo che in sé è già un misto di arti perché nel cinema l'immagine ha la parola, la parola ha l'immagine, ha il suono, la musica, la fotografia, le parole. Quindi già solo per questo sarebbe valsa la pena fare un incontro dedicato al cinema in un'edizione come questa ma in più abbiamo la fortuna, il piacere e l'onore di avere con noi Mario Martone che nonostante i vari impegni è riuscito a trovare il tempo di venire da noi e con lui Giona Nazaro che molti di voi conosceranno perché è il direttore artistico del Locarno Film Festival, festival che ha collaborato alla produzione di questo incontro. Perché dico Mario Martone? Non solo perché come voi tutti sapete è un grande regista ma perché con la letteratura ha stabilito un rapporto privilegiato, non starò qua a dire tutti i film che ha fatto, tratti dai romanzi perché ne parleranno sicuramente loro ma andiamo un po' indietro nel tempo, si può pensare all'amore molesto tratto da Elena Ferrante, tra l'altro un periodo in cui Elena Ferrante non era ancora Elena Ferrante che è adesso di fama e l'ultimo Nostalgia che è tratto da un romanzo di Armando Rea e tanti altri in mezzo compresa anche una biografia di Leopardi, Il giovane favoloso e anche film tratti da offerte teatrali come il sindaco di Rione Sanità che è di De Filippo, Edoardo De Filippo e non è neanche solo questo perché Martone è anche sceneggiatore dei suoi film quindi ha tutti gli effetti uno scrittore, li scrive lui molto spesso con la sua compagna o moglie e oltretutto è anche un regista di teatro da sempre, ha sempre lavorato in teatro, dramaturgo e anche regista di opera quindi adesso uno dei motivi per cui è molto impegnato adesso è perché sta facendo delle prove alla scala e quindi di nuovo un'altra arte che entra. Io non rubo più tempo all'incontro quindi grazie Mario per essere qui, grazie Giona e lascio a voi la parola. Benvenute a tutte e tutti, ovviamente è un grande onore essere qui a Bellinzona a Babel ed è ovviamente un grandissimo piacere ritrovare in Ticino Mario Martone dopo anche l'evento di Pesaro che gli è stato dedicato nella cui occasione è stato pubblicato uno studio credo molto comprensivo che esplora tutti gli aspetti della produzione di Mario Martone perché Mario Martone è il cineasta italiano più importante degli ultimi decenni e probabilmente una delle cinque personalità di maggior spicco della cultura europea. Vorrei iniziare da una nozione quando, e ovviamente mi auguro di non citarla in maniera impropria o approssimativa, però quando Bazin nei suoi studi si interroga su che cosa sia il cinema ipotizza questa nozione di cinema impuro. Cinema impuro che lui mette appunto analizzando il rapporto che, tra altre cose, il rapporto che il film di Bresson, diario di un curato di campagna, ha con la fonte letteraria di Bernanò. E mi sembra che nell'opera di Mario Martone che vive in questo confronto dialettico estremamente fertile con le fonti, dove le fonti in qualche modo si pongono costantemente il problema dell'origine o delle origini, l'opera cinematografica di Martone riesce sempre a offrire non un'immagine definitiva ma molto coraggiosamente, si offre sempre come punto provvisorio, provvisorio per ulteriori e esplorazioni. In questo senso mi sembra che se idealmente potessimo fare una carrellata all'indietro sull'insieme dell'opera di Martone, produzione che comprende non solo il cinema, che è la parte più visibile della sua attività, ma anche le regie teatrali, le regie dell'opera lirica, tutto il lavoro necessario per arrivare da un libro a una sceneggiatura. Ecco, se noi potessimo fare idealmente questa carrellata all'indietro, scopriremmo un reticolo di rimandi interni, di ipotesi di dialogo, di domanda, di incontro, che offrono in sé l'immagine di un'opera che più di altre si è posto il problema del tempo storico nel quale ci troviamo a vivere. E questa domanda che l'opera di Martone pone nei confronti del tempo storico avviene in maniera molto precisa, modernista, a partire da una serie di materiali. Materiali che sono materiali della cultura, che sono opere di altri autori, scrittori, poeti, musicisti, perché è nel confronto con questo materiale che il lavoro di Martone poi acquisisce questa ampiezza. E limitatamente al lavoro cinematografico è interessante osservare come questo dialogo serrato, continuo, con i materiali che stanno all'origine dei suoi film, producano poi questo gesto filmico che è sempre più dentro le ragioni del linguaggio cinematografico. Mi auguro che abbiate tutti visto l'ultimissimo film di Martone, Nostalgia, l'incipit che porta di nuovo a Napoli, alla sanità, Favino, è un incipit di densità, classicamente, verrebbe da dire, hollywoodiano, per come è sintetico, per come è preciso, per come è forte, per come non spreca nessun raccordo di montaggio, per come nessun inquadratura pleonastica. Ed è interessante come il lavoro cinematografico discenda in maniera così diretta da questo confronto con un testo. Chi poi ha letto il libro di Erman Orea sa che ci sono una serie di grandi differenze fra il testo scritto e quello che è la versione cinematografica che ne ha fatto Mario Martone. Dico questo perché sul lavoro di Mario c'è stato per anni, e in parte continua ad esserci purtroppo, quest'idea di un regista che adatta. Ed è proprio sull'idea di adattamento che si gioca poi in fondo uno dei meriti maggiori dell'opera di Mario, perché adattare significa anche portare nel tempo presente. Portare il tempo presente è la dimensione ideale di ogni testo. Non esistono testi del passato, non esiste la storia se non come domanda nei confronti del nostro presente e non esiste inquadratura che non sia una presa di posizione nei confronti del tempo presente. Quindi tornando un po' all'inizio, quando io penso a Mario penso a una persona che si è posto profondamente, evidentemente, il rapporto con i materiali del suo lavoro e con questa nozione di cinema impuro, che in fondo significa questo. Nessun cineasta può essere un cineasta assoluto, astratto, questa sorta di purezza rivendicata da alcuni cinefili, quelli che vivono solo nella bolla del cinema, ma che il cinema più necessario, più interessante, il cinema moderno, non può che essere un lavorio continuo con i materiali, la cultura, il tempo, e da questo confronto che scaturisce poi la presa sul presente o meno di una determinata opera. E concludo dicendo che Martone non è tanto il regista di singoli film che contano sin da ora fra le opere più significative di tutto il cinema italiano. Martone è l'autore di un'opera. Noi possiamo limitarci a considerare i suoi film che sono la parte più accessibile, nel senso frequentabile perché esiste su vari supporti al cinema, DVD e così via, ma appunto mettere in una disposizione ideale le regie delle opere liriche, gli spettacoli teatrali, i cortometraggi, i documentari, il lavoro sulle sceneggiature, viene fuori l'immagine di un'opera. E non credo che oggi in Italia, ma anche in Europa, ci sono autori che lavorano costantemente a un'opera. Ci sono tantissimi registi che fanno degli eccellenti film, pochissime le personalità che lavorano a un'opera. E anche se con un temperamento completamente diverso e con una modalità completamente diverso, credo che l'ultimo autore europeo ad aver tentato l'approccio all'opera mi sembra che sia Fassbinder, con questo suo rapporto molto furioso nei confronti della storia tedesca del secondo dopoguerra, con la letteratura dell'opera del secondo dopoguerra, con cosa significava essere tedesco e così via. In fondo, Mario Martone, da un luogo specifico dell'Europa che viene identificato con Napoli, oggi ci aiuta a pensare cos'è il lavoro di un intellettuale, cosa significa pensare il lavoro di un intellettuale nel quadro dell'Europa contemporanea e cosa significa fare tutto ciò da un punto d'osservazione come può essere appunto l'Italia. Io concludo per davvero e dico che osservare come tutto l'arco dell'opera di Mario Martone si è andato strutturando dai suoi esordi nei teatri off di Napoli fino a oggi con nostalgia, la presenza in concorso a Cannes e così via, nel frattempo tutti gli altri film. Ecco, io mi rendo conto e mi sembra di capire che Martone in realtà è un autore con il quale la conversazione e il dialogo si produce instancabilmente e soprattutto, nonostante lui sia chiaramente un autore, rifugge sempre quelli che sono i manierismi autoriali, i segni riconoscibili. C'è questa messa in discussione continua del proprio lavoro che è in fondo il segno primo più evidente di quella che si può identificare come opera. Questo come introduzione. Io vorrei a questo punto iniziare la conversazione. Mario, ti chiedo scusa se mi sono un po' dilungato, ma c'erano alcune cose che ci tenevo a dire, a dirti e io vorrei magari, se possiamo, partire proprio da nostalgia per quello che il film è venuto a significare nella tua opera e anche per quello che questo film in qualche modo dice su questo rapporto che hai con questa città. Nostalgia è un film che non era un cantiere, diciamo, perché è tant'è vero che appunto l'ho fatto praticamente, Qui Rido Io e Nostalgia sono due film vicinissimi. E Nostalgia mi è stato proposto da Luciano Stella, quindi produttore, diciamo, Luciano Stella è una grande storia di distribuzione a Napoli, però è produttore da poco, quindi, diciamo, non era un produttore, non è uno dei big, no? Non era uno dei big dei produttori italiani, e aveva preso i diritti di Nostalgia di Ermanno Rea. Ora, tante volte mi sono stati proposti libri, insomma, e anche libri molto belli, e anche libri che capisco molto giusti per me, però se non scatta qualche cosa in me che muova, diciamo, tutto questo insieme che un po' Giona ha, e lo ringrazio moltissimo per le parole stupende che ha avuto su di me, sul mio lavoro, però, diciamo, se non mette insieme, se non fa partire, diciamo, ecco, questo reticolato, come l'hai chiamato, diciamo, di rimandi, di cose, eccetera, non riesco a fare il film, cioè lo devo poter fare, e in questo caso il libro, invece, si è aperto una strada in me. Difficile di esattamente che cosa... Tenete presente che Nostalgia è un romanzo non ambientato a Napoli, ma ambientato in un quartiere di Napoli, che è il Rione Sanità, e certamente io avevo fatto il sindaco del Rione Sanità di Edoardo e Filippo, quindi sicuramente questo, nel mio, diciamo, nel sistema di concatenazioni, chiaramente aveva un... avevo, ecco, avevo proprio da poco girato alcune brevi scene a Rione Sanità per il film da Edoardo e Filippo, quindi era la prima volta un po' che mettevo piede, diciamo, nel... perché io la sanità non la conoscevo, cioè a Napoli la sanità è un quartiere, un enclave, diciamo così, è un quartiere per tante ragioni che adesso non stiamo a spiegare, che sarebbe troppo lungo, ma, insomma, è un... appunto, è come un quartiere intanto lontano dal mare, cioè guarda il mare dall'alto, diciamo, c'è gli edifici che stanno in alto, eccetera, guardano il mare da lontano, però a differenza di altri quartieri di Napoli, insomma, arrivare al mare è semplice, la sanità c'è come una distanza, ed è chiuso. Allora, quello che mi colpiva immediatamente è che nel romanzo si raccontasse la storia di quest'uomo che torna dopo tanto tempo e che finirà per incontrare fatalmente l'amico con cui è successo qualche cosa di imprevisto e di tragico, diciamo, quando erano ragazzi. Quindi l'amico nel frattempo è diventato un capo, un boss, diciamo così, quindi un malvivente, un uomo che ha potere nel quartiere da questo punto di vista, che nessuno vede mai, che si è rintanato in una casa che nessuno vede. E quindi, chiaramente, l'idea di questo personaggio chiuso in questo quartiere labirintico era evidentemente, come dire, c'era il labirinto, c'era il minotauro, c'era un viaggio. Ecco, allora, se c'è un viaggio io sono attratto. Cioè, se in qualche modo ci si può mettere in cammino facendo il film, cioè io come regista, i miei collaboratori e gli attori e le attrici che lavorano con me e poi, fondamentalmente, gli spettatori, allora mi sembra che abbia senso. E qua mi sembrava che ci fosse questo cammino da fare. Quindi, a cominciare da me, per poi dopo allargarsi via via e per fortuna sembra si sia piuttosto allargato. Ma il... Però, ecco, è questo. Cioè, quindi partivo intanto da una condizione di non sapere. Quindi non conoscevo, non conoscevo la sanità come le mie tasche. Sono napoletano, ma sono napoletano di un quartiere borghese che è Chiaia. I miei nonni abitavano nei quartieri spagnoli, che è un quartiere popolare, ma diversissimo dalla sanità. Adesso vi sembrerà assurdo fare tutte queste differenze. Invece sono importanti. Del resto, se pensate, i grandi scrittori che parlano di Gerusalemme o i registi che affrontano New York o, per non parlare, dei russi che descrivano San Pietroburgo. Cioè, è chiaro che sono... Cioè, entrare nei meandri di una città. Una città è un corpo, no? È un corpo con tanti organi, con tanti aspetti. Quindi, ognuno è un tasto diverso, ognuno è una cosa diversa. E quindi, Napoli, per me, è un po' una cosa del genere. E quindi, si poteva compiere questo viaggio. C'erano, per esempio, delle... Venivo da Quirido Io, che è un film proprio antropologicamente napoletano. Nel senso che è proprio... È dentro Napoli, no? La colonna sonora è fatta di canzoni napoletane. È come di l'humus, proprio, no? Di questo film che racconta la storia di Edoardo De Filippo Bambino, quindi di questo suo padre mostro, diciamo così. E insomma, tutto questo film è un film fatto proprio con attori, attrici napoletani, ma molto strettamente, diciamo, no? Quindi è proprio... proprio antropologicamente. Qui, ecco che, per esempio, invece c'era qualcosa... perché nel romanzo c'era questo protagonista che arrivava dopo 40 anni di distanza e che quindi da immigrante di quelli che hanno qualche cosa anche da voler dimenticare, diciamo, si è allontanato anche dalla sua lingua. Quindi c'era proprio qualcosa che già spiazzava completamente, Cioè, proprio rovesciava, diciamo così, il rapporto. Allora, questo era interessante subito per me. quindi la possibilità di lavorare invece con un attore non napoletano come per Francesco Favino perché avevo bisogno di un non napoletano, avevo bisogno di qualcuno che il napoletano lo conquistasse durante le riprese, lo riprendesse, cioè che questo napoletano tornasse a vivere, diciamo, nel farsi del film. E così, e così, insomma, c'erano tutti questi elementi. Il romanzo di Ermanorea si addiceva, diciamo, a questo, perché poi Ermanorea era uno scrittore i cui libri non sono romanzi puri. Anche Ermanorea è uno scrittore, è stato uno scrittore, diciamo, impuro, no? In una maniera che a me piace moltissimo per chi conosce il suo libro che è forse il più bello, Mistero napoletano sulla figura di Francesca Spada. sa che Ermano era un qualche co... Cioè, era anche dire un giornalista nel senso che comunque era un uomo che faceva delle inchieste. Ecco, diciamo, quindi i suoi libri sono anche inchieste, inchieste storiche, inchieste politiche, quindi c'è una struttura narrativa e c'era il racconto, il nostalgia, c'erano i personaggi, ma c'era tutto questo altro. Allora, per alcuni tutto questo insieme di cose. Diciamo, possono pensare ma il romanzo non è appunto un romanzo che si disperde in troppe cose, non ha... Ecco, invece a me chiaramente interessa perché ovviamente Ermano mi forniva esattamente ciò di cui ho bisogno, cioè una mappa, quindi chiaramente anche tutte le digressioni storiche, tutte le digressioni politiche, tutte le cose che nel film non ci sono ma ci sono, nel senso non si vedono ma ci sono. ci sono perché vengono diciamo dalla lettura e dalla... cioè capire perché la sanità è un enclave, proprio storicamente cosa è successo con quel ponte che la taglia in alto, fatto di Amurà quando è venuto a Napoli, quindi questo quartiere improvvisamente si trova da che era il luogo dove passava il re per andare a Capodimonte si trova invece ad essere un luogo dimenticato, no? Cioè allora quanto la storia pesa sulle... sui mattoni, sulle pietre, sui... quanto pesa su tutto, quanto pesa sugli esseri umani, cioè nel senso perché le persone alla sanità sono una tribù chiusa rispetto ad altre zone di Napoli è qualche cosa che viene da lontano, c'è una storia che viene da lontanissimo, però certo tu cosa filmi, film il presente, in particolare io Nostalgia l'ho fatto, a un certo punto ho capito ed è stata la chiave di voltare il film che io dovevo dar vita a questo coro diciamo della sanità di tutti questi piccoli personaggi che ci sono continuamente e così via non con degli attori o delle attrici ma con le persone della sanità quindi ho fatto proprio ho messo insieme a Fabino a Francesco Di Leva a Tommaso Ragno a Aurora Quattrocchi insomma insieme a questi formidabili attori però invece delle persone che non avevano mai recitato in vita loro e che però rappresentavano la verità di quel posto ecco allo stesso modo di come naturalmente le strade le case è girato completamente tutto nella sanità ecco allora in questo caso il rapporto con il romanzo non è solo perché c'è una storia che mi attraeva e dei personaggi che mi sembravano potenti soprattutto Felice Lasco mi sembrava un personaggio inedito diciamo un po' anche da proporre nel cinema italiano perché è una figura di non è un eroe non è un cioè un uomo che così che ha diciamo una serie proprio di come di timidezze quasi una sensibilità diciamo molto cioè quindi ecco non era un uomo che attraversava tutto questo compresa la parte criminale del film col piglio diciamo dell'eroe o di colui che doveva combattere non era non era c'era qualche cosa di femminile anche diciamo così in questo in questo modo un femminile che viene probabilmente anche dall'essere stato molto a lungo in Medio Oriente perché comunque c'è una gentilezza della cultura islamica che noi tendiamo a identificare facilmente con luoghi comuni assurdi mentre invece c'è proprio un modo c'è una gentilezza c'è una modestia c'è una una che è molto particolare che per noi per esempio è stato importante anche questo c'è il lato diciamo così islamico nel film che è molto diciamo sotterraneo non è esibito però è molto importante è anche il lavoro sul personaggio di Felice Lasco quindi è stato cioè da dove veniva quest'uomo che com'era la sua moglie in che modo diciamo com'era stata la sua vita durante questi 40 anni ecco tutto questo si doveva vedere nel film nel romanzo è raccontato in parte molto invece abbiamo immaginato noi perché per esempio ecco cosa succede nel romanzo il romanzo c'ha lunghe parti in cui si racconta la vita di Felice Lasco in Medio Oriente che cosa potevamo fare cioè io non volevo io volevo fare un film tutto nella sanità non volevo volevo raccontare il presente di quella storia e non tutto il resto quindi non volevo quelle digressioni e come fai allora a portare tutto quel pezzo del libro lo porti nel lavoro sul personaggio con l'attore cioè il Medio Oriente da cui lui viene è addosso a lui che significa il modo di comportarsi il modo di muoversi il modo di lavare la madre il modo di di avvicinarsi alle persone e alle strade alle cose che conosceva e che ha perduto ai sapori agli odori ecco tutto questo doveva essere proprio su di lui chiaramente per fare una cosa del genere certo ci voleva un grande attore e per fortuna ce la rivo tra le mani e dunque in questa cosa che dicevi hai insistito più volte giustamente sul ruolo della storia esiste la storia e le storie però ci sono anche un paio di film che in un momento molto particolare del paese Italia hanno rimesso come si vuol dire alcuni argomenti all'ordine del giorno come non più procrastinabili penso soprattutto a noi credevamo e al necessario corollario il giovane favoloso dove in pratica in noi credevamo si ritorna a ragionare al di là delle semplificazioni prodotte dal chiacchiericcio audio visuale su cosa è stato il risorgimento come si sia potuto immaginare anche la geografia di un paese che si sarebbe chiamato Italia e nel giovane favoloso un po' la critica anche in chiave negativa ma negativa in senso filosofico di questo processo attraverso l'opera filosofica di Leopardi io trovo che questo sia uno dei meriti straordinari del tuo lavoro e ricordo ancora con grande commozione la sorpresa nell'arco di un weekend di un film che secondo chi pensa di sapere le cose doveva scomparire senza lasciare traccia e che invece ha risuonato in maniera esemplare con il desiderio di riprendere a fare delle domande a tu per tu al paese nel quale si viveva e io volevo chiederti se potevi un pochino rievocare come dire la genesi non solo del progetto ma anche del tuo esserti così lungamente affezionato a questa idea che poi è il progetto noi credevamo è anche il primo film di Mario realizzato con Renato Berta che è nativo di Bellinzona perché è proprio nato a Bellinzona così ovviamente so benissimo che era nato il ticinese ma quindi proprio qua sì sì proprio qua allora tutte quelle fortezze allora dunque credo sia interessante in questa sede parlare appunto del allora ecco diciamo più che progetto diciamo viaggio perché appunto il concetto torno sul concetto di viaggio è mai come in questo caso e qui però diciamo rispetto alla tua introduzione insomma quello che può essere interessante capire come appunto la follia di questo film la cui realizzazione mi ha impegnato per sei anni diciamo è andata avanti allora qual era la mia conoscenza dell'ottocento italiano e della storia dell'Italia dell'ottocento non dico zero ma insomma voglio dire molto elementare cioè quello che avevo potuto studiare a scuola nemmeno chissà quanto bene cose che sapevo cioè le cose che sanno tutti insomma così quindi voglio dire italiano medio proprio così nel rapporto con poco interessato all'ottocento italiano da ragazzo sempre affascinato all'ottocento francese inglese ma insomma l'ottocento italiano anche letteratura eccetera insomma che noia e questo diciamo è il pregresso poi diciamo come cosa accade accade che innanzitutto accade che siamo negli anni negli anni successivi all'11 settembre e quindi diciamo a anni in cui il tema del terrorismo era un tema molto importante molto forte in più il tema del terrorismo è anche un tema che chiaramente mi ha sempre anche come dire preso insomma emotivamente perché io ho cominciato a fare teatro nel 77 avevo 17 anni e quindi chiaramente quegli anni il 77 il 78 il rapimento di Moro insomma cioè tutta una serie adesso quando ho visto la scena del rapimento nel film serie di Bellocchio mi tremavano le gambe perché mi ritornava esattamente il ricordo di quella allora quindi c'era questo aspetto legato agli anni 70 a quello che c'era c'era l'aspetto contemporaneo ora sapete quelle cose appunto come gli inciampi a un certo punto uno inciampa in una domanda chissà come ti viene in mente e dice ma mi sono detto ma è mai possibile che diciamo la storia del nostro paese che comunque è stata la storia di una guerra per l'indipendenza di diciamo piccole piccoli gruppi contro dei grandi stati e delle grandi polizie sia stata condotta soltanto attraverso abili diplomazie eroiche battaglie strategie di generali come Garibaldi così è mai possibile che diciamo non ci fosse un lato diciamo oscuro lo vogliamo chiamare così ecco è possibile cioè improvvisamente mi è apparsa questa domanda chiaramente questa domanda mica originava da un interesse ripeto per la storia originava da un rapporto col presente cioè con un paese il nostro che diciamo sembra eternamente cioè sembra è come se non fosse mai arrivato a una maturità democratica cioè annaspiamo sempre diciamo è come se questa conquista di democrazia che è sempre così sempre annaspando sempre andando da qua e da là sbandando eccetera quindi è come uno star male allora com'è il fatto no? cioè quando uno sta male cosa fa va in analisi in analisi cosa fa l'analista ti riporta diciamo ai ai traumi del dell'origine della nascita dei primi anni e soprattutto alle rimozioni allora dico vuoi vedere che cioè questo sta quindi per dirti immaginatevi uno che quindi non ne sapeva niente a quel punto cominciò il viaggio che significa cominciare a leggere in maniera random perché appunto non è che certo Gramsci è chiaro che tu sai però voglio dire invece cominciare a muoversi anche su una carta geografica articolata come quella italiana quindi da dove da dove cominci il nord il sud così via allora cominciò a mettere insieme dei pezzi nel cilento che io frequento da quando ero bambino sapevo che c'erano stati dei moti risorgimentali di certi che dicevano essere briganti e che però puntini comincio a e allora comincio a leggere una serie di libri in particolare diciamo i libri che sono stati pubblicati da questo editor anarchico fondamentale che si chiama Giuseppe Galzerano al quale non si rende mai abbastanza omaggio ma che invece è un uomo che ha fatto moltissimo e comincio a leggere delle cose poi mi muovo in altre direzioni e comincio a capire un po' alla volta che la linea per esempio insomma a un certo punto tu io sapevo perché da qualche parte della memoria era rimasto il fatto che Felice Orsini avesse attentato alla vita di Napoleone III altro è stato leggere con una certa sorpresa che questo attentato è stato fatto a Parigi fuori all'uscita dell'opera di Parigi lanciando tre bombe e facendo otto morti e 150 feriti tra la folla questa cosa io non la sapevo e molti altri non la sapevano ma questo non c'è scritto nei libri di storia sì certo perché io dove volete che l'abbia letto nei libri di storia ma nei libri di storia la coscienza può rimanere sepolta perché poi dopo esiste invece il senso comune di noi tutti quello per cui se tu vai sono stato a Caprera dove c'è il museo diciamo e dove appunto la guida ti fa vedere il proiettile e dice questo è il proiettile con cui i Borboni hanno sparato a Garibaldi allora se tu alzi il dito e dici Garibaldi non è stato colpito da un proiettile dell'esercito borbonico ma dell'esercito italiano no perché questo è allora capire che ci sono una serie di cose che erano allora cosa succede capisco Orsini era legato a Mazzini comincia a venire fuori la figura di Mazzini comincia a venire fuori un rapporto un'antinomia molto forte tra processo unitario repubblicano e quello monarchico comincia a capire che la questione eravamo nel 2010 arriveremo al 2011 quindi al 150esimo anniversario dell'unità d'Italia dove immaginate andare nelle città del sud dove i ragazzi sono o senza lavoro o costretti a emigrare in uno scenario intorno di nulla dal punto di vista dell'impegno dello Stato nei loro confronti andare lì a celebrare l'unità d'Italia come si faceva senza cadere nella trappola chiaramente del nostalgia per il borbone no cioè come dire senza allora lì tu vedevi che invece era esistito tutto un altro modo un'altra visione che era quella repubblicana e piano piano tutti questi fili e Mazzini che era considerato dalle polizie di tutto il mondo di tutta Europa un terrorista questa cosa qui diciamo quando appunto poi se ne è parlato quando è uscito il film chiaramente ha scatenato inizialmente l'inferno perché ovviamente ah ma come sparare come ci si permette di parlare di Mazzini in questi termini poi in effetti invece anche da questo punto di vista il film ha avuto un enorme perché a quel punto io ho chiamato dopo queste prime esplorazioni chiamo Giancarlo De Cataldo lo conoscete scrittore autore di Romanzo Criminale giudice volevo stimavo De Cataldo e volevo avere proprio un giudice accanto a me volevo avere proprio una persona che mettesse le mani su quei materiali cioè volevo che il film fosse ineccepibile dal punto di vista storico cioè che non ci fosse e qui c'entra Rossellini cioè fare il film proprio con i materiali della storia proprio con quelli con una acribia veramente mostruosa io ho trovato poi dopo gli errori ormai capivo dove c'erano gli errori nei libri di storia che leggevo mi imbatto leggendo una delle saggi di Cesare Garboli lui a un certo punto parla di un libro di Anna Banti un libro due righe dice argomento risorgimentale eccetera e il libro si intitola Noi credevamo resto folgorato da queste due parole Noi credevamo e mi metto la ricerca e il libro che non si trovava più comunque alla fine lo trovo lo leggo cosa era il libro era il diciamo il racconto il nonno di Anna Banti che si chiamava Lopresti calabrese era un repubblicano che era stato a lungo in galera e dunque diciamo il libro era il racconto di suo nonno allora da questo libro vedete erano tante le cose che io andavo acchiappando c'era appunto gli episodi storici il cilento che sapevo attraverso i libri di Galzerano e così via però questo libro ne prendo delle parti prendo il titolo prendo il protagonista che si ha interpretato Luigi Locascio e Domenico Lopresti appunto e soprattutto l'episodio il secondo episodio quello nel carcere studiando capendo che il libro che il modo in cui Anna Banti aveva lavorato aveva lavorato su cosa sui diari di suo nonno per fare un romanzo ma aveva lavorato sui diari quindi c'era qualcosa di vero quello che veniva raccontato le figure di cui si parlavano erano autentiche e c'era quest'altro personaggio Sigismondo di Castromediano Leccese allora capisco che esistono le memorie di Castromediano vado a recuperare con Decataldo recuperiamo le memorie di Castromediano e da lì prendiamo tutta una serie di altre cose quindi per dire i libri coinvolti noi credevamo sono una miriade su tutti potrei dire i demoni Dostoievski che chiaramente diciamo sono come dire il libro capitale se vuoi tentare di avvicinarti al tema del terrorismo e della pulsione omicida che si mescola a diciamo con quelli che sarebbero ideali cioè c'è una specie di torsione terrificante e per esempio tutto il terzo episodio quello legato sulla strage di Orsini a Parigi e il personaggio di Angelo che è interpretato da Valerio Binasco era proprio come dire ispirato diciamo ci sono proprio anche delle cose dirette che vengono dai demoni quindi questo per dire insomma mi sono dilungato ma visto che l'occasione è questa appunto di parlare del rapporto con le fonti e di questo senso impuro diciamo così per dire come noi credevamo sia proprio un film cioè sei anni di esplorazione a 360 gradi cioè proprio dove le fonti letterali poi un'altra cosa c'erano dei dialoghi lunghi molto importanti a cui tenevo molto questi dialoghi erano scritti quindi in un metodo che sarà anche quello del giovane favoloso prendendoli da che cosa perché se è vero che la letteratura italiana dell'Ottocento spesso è faticosa non altrettanto le lettere cioè le lettere che si scrivevano alle persone dell'Ottocento sono meravigliose perché non hanno il problema di dover fare letteratura cioè scrivono quello che vogliono scrivono quello che pensano scrivono le loro emozioni i loro pensieri e quindi sono dirette leggere le lettere è una cosa meravigliosa perché tutto è vivo ma vivissimo allora io riportavo tantissimi dialoghi frasi per costruire dialoghi e lo facevo senza adattarli all'italiano contemporaneo cioè lasciando proprio la struttura delle frasi vocaboli eccetera non vi dico che cos'era con tutti i vari produttori la RAI le cose perché diciamo Mario scusa ma perché potrebbero queste stesse cose dirle in un italiano e qua parliamo di traduzione se vuoi perché non tradurle in un italiano vicino a noi perché il mio problema non era quello di attualizzare il passato che è una cosa stupida perché il passato è come dire è lì dove sta cioè come lo attualizzi il problema è farlo rivivere in modo tale che tu lo possa guardare e confrontarti con esso perché vive allora questa era la questione ma questo è stato uno degli ostacoli più grandi però io non ne volevo sapere niente che non volevo rinunciare non volevo far diventare questi dialoghi dei dialoghi come se fosse un film oggi allora parlano diciamo uno slang più o meno dei nostri giorni perché invece c'era una potenza che nasceva da quelle parole i miei grandi alleati chi sono stati gli attori perché gli attori a cui io facevo leggere la sceneggiatura Locascio Binasco Tony Servillo Luca Zingaretti tutti gli attori che hanno interpretato noi credevamo invece venivano attratti moltissimo dalla sfida di questa perché da attori capivano che potevano interpretare cioè appunto far rivivere e quella è stata una chiave decisiva il film non sarebbe lo stesso se non avesse questa lingua perché il punto era far tornare viva quella lingua lì e far tornare vivo tutto quello che c'era intorno perché ovviamente quando tu sei in una battaglia quando tu sei la giovine Italia cioè una rete di ragazzini al comando di un giovanissimo signore che sta in Svizzera e che non si sa come senza telefonini senza computer senza niente però diciamo crea una rete che è una rete inevitabilmente clandestina e immagina una serie di azioni che sono inevitabilmente terroristiche a un certo punto come si racconta nel film Mazzini ha dato diciamo proprio come dire fatto in modo di che si colpisse a morte Carlo Alberto queste cose qua a noi in Italia a scuola non ce le insegnavano quindi è come se dicessi siamo troppo cioè sono cose che non vanno raccontate sono cose che vanno raccontate perché tu capisci perché poi dopo per esempio il nostro paese è così ci sono queste queste forme di conflittualità così chiuse come se a un certo punto fosse impossibile veramente perché sembra impossibile trovare un terreno comune perché il terreno comune ti viene levato da sottipiedi ti viene raccontato come è successo cioè come è successo che noi siamo in Italia Cavour voleva impiccare Mazzini aveva anche deciso dove a Genova Piazza Acquasola aveva deciso dove l'avrebbe impiccato oggi c'è una statua di Mazzini però per dire quindi i nostri il panteon dei nostri padri della patria sono state persone che invece hanno come dire fortemente diciamo si sono fortemente battute con le altre allora fare cinema con tutto questo provare diciamo a far rivivere questa temperia a far rivivere la nebbia in cui si trova chiunque cioè la nebbia insomma quando noi viviamo le cose nel nostro tempo basterebbe vedere che cos'è diciamo la questione della questione degli aiuti all'Ucraina le posizioni rispetto alla guerra bellicismo pacifismo temi che poi dopo in Capri Revolution io combinazione avevo toccato poco prima del Covid della guerra e tutte queste cose qui ma tutti i temi toccati perché sono gli stessi diciamo per la prima guerra mondiale era la stessa cosa c'era praticamente tutta la parte di sinistra che era interventista e non si riesce a capire allora dice ma non si riesce a capire ma certo perché tu quando vivi dentro tu vivi dentro una nebbia cioè poi dopo la nebbia si dirata diventa storia e tu allora cominci a dire ma questa aveva ragione questa aveva ragione quell'altro era giusto fare così era giusto fare colì ma quando tu sei dentro sei nella nebbia cioè non è facile capire che cosa no e quindi gli errori che si commettono i crimini anche che si commettono no cioè è una allora che cosa devi provare a fare provare a dare vita a quella nebbia insomma tutto questo per dire adesso insomma mi sono dilungato però dico è per dire diciamo la creazione di un film come noi credevamo è una creazione proprio è un lavoro diciamo di rapporto con diversi testi storici letterari politici con diverse lingue tra l'altro nel film si parla in inglese si parla in francese che a un certo punto i personaggi vanno appunto a Londra vanno a Parigi e così via cilentano si parla il cilentano quindi tutto parte poi da tutto questo io l'ho fatto con tre personaggi del mio cilento quindi sono partito da questi tre da qualcosa di molto 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 vicino a me di proprio intimo cioè delle persone degli amici miei che parlavano cilentano sono partito da lì e piano piano per allargare questo cioè più cinema impuro di quello non c'è però però sì e finisco con Leopardi per dire che tutto questo in tutti questi sei anni mi era come dire proprio nelle letture nelle cose in tutta questa temperie si era levata la voce di Leopardi che proprio parlava chiaro e netto cioè tutto noi credevamo è un film di impianto leopardiano però Leopardi non è mai citato e noi credevamo e non c'è niente di Leopardi noi credevamo quindi è qualcosa che poi è venuto dopo capito cioè quindi è come se noi credevamo alla fine avesse figliato diciamo dopo dopo il film in sé ma anche il lavoro successivo che abbiamo fatto con Ippualità di Maia sulle operette morali e dalle operette morali il giovane favoloso quindi il processo che diciamo tra noi creiamo il giovane favoloso sono dieci anni tutto questo negli anni in cui facevo volevo fare noi credevamo e non ci riuscivo mi venivano proposte andavo a fare delle opere liriche che ne so vado a Londra mi propongono intanto mi propongono varie opere liriche dell'ottocento italiano Verdi Rossini quindi io diciamo nel frattempo venivo nutrito così come delle parole che erano le parole delle lettere quelle vive ma poi anche delle musiche dei suoni di quello che diciamo era come uno che fa un film negli anni sessanta con i Beatles però voglio dire avere Verdi e sentirlo vivo come qualche cosa che in quel momento risuonava nelle orecchie di quei giovani di quei ragazzi quindi opere liriche andavo a Londra a un certo punto faccio ballo in maschera al Covengarde nel mese in cui sto lì cosa faccio vado con la macchina fotografica a fotografare la Londra dell'ottocento che era la Londra dove poi andavano Mazzini Garibaldi dove cioè quindi ecco sì tutto è concatenato e io lascio aperte le porte di questi cantieri cioè non è che se faccio un film dico ok faccio il film e il film è chiuso no è tutto aperto quindi è aperte le porte del teatro le porte del cinema e soprattutto aperte le porte della mia ignoranza che sono quelle fondamentali cioè le cose che io non so perché le cose che non so sono quelle che mi spingono al viaggio se io la sanità la conoscevo bene forse magari non mi veniva voglia di fare nostalgia è che non la conoscevo che ho voluto fare nostalgia cioè allora queste porte sono quelle che poi conducono al viaggio e il tentativo è quello poi di coinvolgere diciamo gli spettatori in questo viaggio cioè portare gli spettatori a fare il viaggio insieme a me durante il film in questa cosa che hai detto ci sono tornano tre elementi uno la lingua la lingua delle fonti la lingua delle opere delle lettere la lingua con cui certi eventi sono stati trasmessi alla storiografia quindi c'è anche lì un atto di traduzione tra quello che accade e come viene narrato e tutto questo mentre parlavi mi è venuto in mente che in realtà è come se tu ti ponessi in fondo una domanda cioè come tutto questo possa contribuire alla creazione del presente intesa come un elemento critico perché per esempio quando tu metti mano al giovane favoloso alle operette morali è vero come dicevi che noi credevamo c'è leopardi ma il giovane favoloso è un po' la critica di un secolo ed è già anche la critica del nostro tempo quindi uno sguardo estremamente lucido che evoca un presente che ancora non c'è ma che però nel tuo lavoro su su leopardi diventa tale e poi in capri revolution questa cosa arriva proprio alle soglie del novecento questo pensiero critico che anche qui un contatto con il monte verità che sta qui e così via arrivo qui sento la presenza di monte verità e quindi io volevo chiederti cioè visto che da poco anche che è venuto a mancare godare godare provocatoriamente pasolineanamente diceva non è importante leggere l'importante è vedere però è da tempo che pensa che tu con tutto questo lavoro che stai facendo è come se tu ci volessi portare a vedere per la prima volta con uno sguardo diciamo che ci permetta poi di dire sì no questo lo prendo questo o qualche dubbio ma comunque di creare questo presente o di meglio portare alcune cose nel nostro presente per creare una possibilità di un'immagine non una sintesi dialettica uno più uno uguale sintesi ma la possibilità di appunto mi dicevi da un lato lasciare le porte aperte ma allo stesso tempo di presentificare dei discorsi e a partire da quello di avanzare sì godard è stato come dire fondamentale nel senso che veramente ha aperto gli occhi cioè nel senso io e tutti i cineasti che gli siamo diciamo devoti che siamo chiaramente migliaia migliaia e comunque quello che che godard perché diciamo nessuno ha mai imitato godard che era inimitabile però diciamo godard appunto era un maestro che ti sì che ti apriva proprio gli occhi che ti mostrava come si poteva guardare no e e soprattutto che cosa naturalmente forse la cosa più forse la cosa più importante è il montaggio cioè l'idea di montaggio di godard è stata talmente cioè quindi e quello veramente ha proprio ribaltato tutto no perché godard montava diciamo con una libertà e con un'ampiezza no se uno pensa di O langage il meraviglioso che non è il suo ultimo credo ma il penultimo vero l'ultimo che era un film incredibile perché diciamo un film completamente aperto proprio però al tempo stesso questa apertura su tantissimi materiali tantissime suggestioni diciamo si componeva proprio grazie al montaggio quindi che cosa è quello se non guardare sentire e assemblare in un altro modo cioè capire che quella che è il cinema diciamo al di là naturalmente del suo rapporto con la fotografia con la pittura cioè il suo rapporto col teatro quindi quello che è la messa in scena diciamo così o comunque lo sguardo fotografico del cinema ma è invece diciamo musica intanto in questo senso ed è musica però è come fare musica con la realtà è come se la realtà diventasse musica diciamo nella 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 spinta del montaggio di Godard allora questa cosa qua per esempio ecco per me è quella che è la lezione che mi ha sempre fatto cioè questa apertura viene da quello cioè quando non bisogna guardare a noi credevamo come cioè allora dice ma perché c'è un montaggio Godardiano niente affatto anzi diciamo è un film con una anche impostazione compassata se vuoi no? cioè quindi non c'è un non ha una non è che è lì ma è però il modo come ho cercato di raccontare la costruzione del film è quello il montaggio cioè il montaggio esattamente nel senso Godardiano cioè esattamente quel muoversi tra moltissime cose farle risuonare tra di loro no? cioè cercare quella musica poi quella musica ha prodotto quel film che è diciamo è lo stile mio è il modo mio cioè è la mia è il mio modo come cineasta ma c'è qualche cosa che è più importante è lo stile cioè lo stile è una scatola vuota cioè non so come dire è bella perché ci vuole ci vuole una bella scatola più o meno nuova più o meno innovativa più o meno accattivante più o meno giusta alla page o magari tradizionale quello che vuoi tu però in realtà quello che poi muove no? e in questo chiaramente Rossellini Codà cioè è comunque quello che c'è dentro il modo di vederlo cioè è l'anima di tutto questo ecco allora sicuramente Godard c'ha proprio da questo punto di vista almeno insomma c'ha aperto la testa proprio ecco cioè io non sarei non dico non avrei fatto i film che ho fatto dico non sarei la stessa persona senza la lezione di Godard sono due cose diverse ma non così due ma tu l'hai messo giustamente in relazione Rossellini e Godard Godard è l'ultimo il primo è l'ultimo dei rosselliniani puri e però nel senso di Rossellini anche Rossellini a un certo punto si è ha iniziato a confrontarsi direttamente con la storia viva l'Italia anno 1 e altri film ancora in qualche modo soprattutto quelli in presa reale Germania anno 0 Europa 51 ecco volevo chiederti una domanda proprio da so del tuo amore per Rossellini quanto è presente Rossellini quando immagini pensi è interiorizzato chiaramente non ci penso in senso diretto perché appunto intanto perché diciamo non so lo sai che non sono un regista diciamo cinefilm nel senso che non so fare le citazioni insomma non lo so però in effetti mi piace proprio quello di Rossellini mi piace allora intanto Rossellini cosa ha fatto ha cambiato moltissimo ha fatto cose molto diverse rischiando in una maniera anche sconsiderata perché uno che ha fatto Roma città aperta e che poi dopo di là a un certo numero di anni comincia invece a fare dei film che appunto che non capitalizzano diciamo né esteticamente né tematicamente quello che con Roma città aperta diciamo era stato conquistato ma che invece dissipa se vogliamo per andare altrove per viaggiare altrove già questo chiaramente me lo rende maestro totale insomma quindi e poi naturalmente all'interno dei film stessi cioè Viaggio in Italia che rimane il film più bello che sia stato fatto a Napoli e che come dire è un film capitale insomma proprio nel rapporto tra nell'esattezza diciamo umana il rapporto proprio umano sentimentale il rapporto di questi due marito e moglie nel rapporto con una città che non è quella che tu conosci ma che è una cosa così potente e forte che ti destabilizza cioè insomma c'è il movimento delle cose il fatto che le cose sono tutte in movimento e tutte e tutte appunto da concatenare godardianamente ecco cioè quello è quello è insomma quindi questi sono grandi maestri che chiaramente hanno insomma hanno aperto proprio la la mente insomma sicuramente io volevo a parte che poi a proposito di fonti se uno pensa a godard del suo rapporto con la letteratura il disprezzo non lo so cioè è chiaro che potrebbe parlare il modo in cui un libro viene completamente con il salto mortale diciamo che fa il libro nelle mani di godard è sempre godare è stato assolutamente proverbiale per indicare come dire il suo modo di non leggere un libro ritrasmettendone il senso in maniera totalmente nuova sorprendente e volevo chiederti di fare un piccolissimo sforzo riguardando dal punto in cui sei oggi il matematico napoletano il tuo primo film che già in quel momento era il tuo primo film avvenendo da un'attività teatrale pionieristica un'attività teatrale che a Napoli ha significato anche la riconquista di certi spazi certe modalità già all'epoca la messa in rete di certe energie attori talenti testi ecco dal tuo punto e io mi ricordo distintamente l'impressione che avemmo quando il tuo film giunse su di noi cinefili che per avere un dialogo con il cinema eravamo militantemente filo americani in maniera e poi dal sud del paese dalle viscere più nascoste di una storia arriva un film che si offre come la possibilità di una conversazione cioè di una possibilità di una conversazione che sarebbe stato possibile portare avanti negli anni perché tale era e tale ci sembrava la promessa contenuta nelle immagini del matematico ecco dal tuo punto di vista di oggi non di cineasta tra virgolette arrivato ma di cineasta che ha creato e sta lavorando è nel pieno del lavoro intorno a quella che è una vera e propria opera cioè come lo vedi oggi quel film lì è stato intanto vedo tutto il mio lavoro in senso di continuità non so se è quella cosa che tu dicevi l'opera insomma comunque sta di fatto che per me io dico più semplicemente un arcipelago insomma quindi io vedo tutti i lavori anche del qualche tempo fa il museo madre a Napoli mi ha proposto di fare una mostra sul mio lavoro allora io ho voluto fare una ho montato praticamente dieci ore di 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 materiale tra cinema teatro opera insomma di di 40 anni e praticamente l'ho montato tutto poi proiettato su quattro schermi insomma una cosa si entrava se ne vedeva il pezzo che si voleva ovviamente ma diciamo questi questi questo montaggio non era fatto in senso cronologico oppure tematico oppure che ne so era l'ho montato appunto con una libertà godardiana diciamo così è un flusso diciamo così dove però quello che a me piaceva mostrare era come si legavano cose molto lontane tra di loro nel tempo o magari nello spazio come un'opera parlava con un film come uno spettacolo teatrale con un'altra cosa quindi ci sono pezzi in superotto e pezzi in digitale cioè tutto mescolato e e sono appunto quindi questo per dire ecco c'è una visione del tempo orizzontale ecco che è quella che io preferisco insomma anche proprio su un piano umano cioè nel senso che è chiaro no certo per forza la tua vita è verticale per forza nasci poi a un certo punto dà male poi muori che devi fare vale per tutti però c'è anche un altro modo invece di guardarlo no che invece orizzontale che significa sapere che la tua infanzia che tu bambino cioè possibilmente insomma cerchi di non scamazzarlo insomma ma di tenerlo comunque ancora vivo vicino a te anche se sei vecchio oppure che le persone che per te sono state importanti un tempo possano continuare ad esserlo cioè che delle cose che loro ti hanno dato tanti anni prima ancora possano essere importanti per te adesso e così via e così come invece delle scoperte degli incontri che fai oggi adesso per esempio a me piace molto lavoro sto lavorando con tante persone giovani sia al cinema sia in teatro una cosa che mi piace che mi mi dà forza mi interessa mi interessa il dialogo con la generazione del nostro tempo e allora però per esempio come mi rimanda invece a delle cose del mio mi rivivono cose del mio passato diciamo ecco quindi questo modo che secondo me è un modo boh insomma non lo so almeno è il mio comunque allora vale allora il matematico molto è un matematico napoletano è sempre presente intanto perché i film che faccio più o meno sono sempre alla fine sono sempre i film in cui si segue uno che cammina o una che cammina nel caso dell'amore molesto c'è un camminante diciamo e lo si segue e questo diciamo si fonda nel matematico proprio questo modo e e poi perché di quel film rimane il gesto diciamo appunto prima vi ho detto come ho dovuto resistere sulla questione di dialoghi di noi credevamo però nel caso di quel primo film c'è stato qualcosa di ostinato che è stato importante a volte essere ostinati può essere stupido però altre volte invece è veramente decisivo perché diciamo avevo sentito parlare di questo matematico napoletano che era Renato Caccioppoli che era veramente vissuto sul quale al tempo non esisteva nessun libro però era una leggenda metropolitana me ne avevano parlato degli amici sapevo di lui che si era suicidato nel 59 lui era un matematico non so perché questa cosa aveva prodotto in me una specie di torsione di cui io voglio raccontare l'ultimo giorno di vita di quest'uomo poi lavorando con Fabrizia Ramondino una scrittrice con cui avremmo scritto la sceneggiatura che diciamo le piacque questa intuizione cioè questo modo di guardare diciamo l'ultimo giorno è diventato l'ultima settimana e questo è stato una cosa giusta una mossa giusta però è rimasta fortemente questa cosa cioè raccontare quest'ultima questo questo crepuscolo diciamo questa e raccontarlo senza flashback né voci fuori campo cioè proprio determinata proprio come dire stare in quel presente il presente di quella settimana allora io ero il mio primo film e allora insomma andavo visto diversi produttori ai quali piaceva molto l'idea di fare un film su Caccioppo e diceva ma che bella storia che bel personaggio eccetera e diceva ma perché devi raccontarli in questo modo scusa racconta la vita apri questa sceneggiatura no fai in modo che no cioè per me non per me non era non era cioè perdeva qualunque senso per me fare il film cioè se se non e perché è difficile dirlo cioè non certe ostinazioni non sono spiegabili diciamo su un piano razionale però io sapevo che proprio mi perdevo qualunque forza diciamo se e quindi la cosa fu farlo da indipendente insomma quindi io avevo la compagnia teatrale chiedemmo i contributi come come compagnia teatrale per fare il film e quindi con quei pochi soldi che con cui potevamo farlo e con l'aiuto di tanti diciamo amici che a Napoli hanno messo a disposizione case cose tutto quanto insomma facemmo questo film che lo facemmo come io l'avevo l'avevo immaginato così come ce l'avevo in testa questo è stato fondamentale allora certo quella cosa lì rimane sempre ecco cioè quella rimane un po' come un cioè rispondere a quella mi viene in mente per citare Godard una cosa che mi ha colpito molto che mi raccontava Bernardo Bertolucci che era come sapete era devoto a Godard a un certo punto Godard Bernardo fa nei Dreamers mette una sequenza di Abu D'Souf e quindi scrive a Godard per chiedergli i diritti per usare questa sequenza e lui gli edita naturalmente risponde con un fax in cui bisognerebbe dirlo in francese ma io non lo so fare Bernardo lo diceva in una maniera irresistibile gli scriveva però ricorda Bernardo non esistono diritti d'autore ma solo doveri e questo l'ho sempre trovato ecco allora per dire diciamo il matematico e quella scelta quella determinazione si era un dovere rispetto a me stesso insomma cioè di non cioè poi certo altre volte l'ostinazione può essere cretina che invece magari qualcuno che ti dice scusa ma fa sta cosa fanno in quella la capacità d'ascolto pure è importante quindi diciamo l'autoreferenzialità autoriale non mi piace però diciamo sicuramente un'idea di insomma di 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 centrare insomma quello che di fare le cose che bene o male perché ti possono venire bene ti possono venire male ma che siano quelle tue però ecco che siano quelle quelle poche volte che ho ceduto da qualche parte è sempre rimasto il rimpianto bene io intanto vorrei ringraziare Mario Martone per la sua generosità e vorrei soltanto aggiungere che è davvero un privilegio poter essere testimoni in diretta della evoluzione della sua opera delle sue riflessioni ed è ovviamente un privilegio come questo che oggi ci ha concesso Babel di rinnovare periodicamente questi nostri incontri nei quali riflettiamo a voce alta con amici e amiche su dove siamo quindi grazie Mario Martone grazie a voi grazie a Babel grazie 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 Giona grazie Mario è veramente un incontro stupendo io sono contento che Mario Martone sia dilungato come ha detto lui su noi credevamo perché è proprio straordinario sentire tutta questa genesi di un film che quando lo vedi capisci la complessità enorme che c'è dietro e proprio ti chiedi qual è la bussola che ti può orientare in un viaggio del genere in cui ti immagini la quantità di fonti la quantità di lavoro e alla fine forse sappiamo che è un processo strano quello della creazione artistica perché parti con un'idea e più entri parti con una domanda e più entri più hai cose da gestire più ti perdi e quindi ti è anche scoraggiante a un certo punto ma finché rimane la curiosità finché uno ha la curiosità di continuare a porsi la domanda forse la bussola è sempre questa e poi su questa questione abbiamo nell'incontro prima si parlava molto di Emily Dickinson e di un verso della sua poesia che era Tell all the truth but tell its land questa idea di dire la verità e la storia non mente solo perché alle volte è scritta da chi ha vinto e quindi falsifica apposta il resoconto di quello che è accaduto ma come diceva Martone irradalmente anche perché semplifica perché rende un processo lineare quello che non lo è stato il mio maestro mi diceva fai sempre attenzione perché quando stai raccontando qualcosa che è successo nel momento in cui tu istituisci un nesso di causa e effetto tra due cose stai cominciando a mentire cioè vai a vedere perché di solito è sempre molto più complesso e questo lavoro quando si vede adesso io anche mi sto fermando su un film solo perché il tempo ovviamente non c'è e loro hanno già detto tutto quello che c'era da dire però quando uno vede noi credevamo proprio questa cosa di cui parlava Martone è evidente quella sensazione che riesce a farti rivivere la storia è avere delle persone che non capiscono bene che cosa stanno facendo e lui poi parlava non a caso credo di nebbia perché esiste proprio una scena che è una specie di simbolo di tutto quanto in cui c'è uno scontro nella nebbia in cui non si vedono uno con l'altro e diventa anche proprio un simbolo di questa cosa che diceva io vi ringrazio ringrazio tutti e al prossimo incontro con Guerri Gall che ci riporterà indietro di migliaia e migliaia e migliaia di anni grazie 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 grazie